Ciao a tutti amici, io sono Rosa E sono Magata E oggi siamo qui per farvi vedere il Kinder Cioccolato Allora noi abbiamo preso il più piccolino Quattro Hai cominciato Ciao a tutti amici, io sono Rosa E sono Magata E oggi... Ciao a tutti amici, io sono Rosa E sono Magata E oggi siamo qui per farvi vedere questo Kinder Cioccolato Allora, noi abbiamo preso il Kinder Cioccolato piccolino Il più grande C'è il nostro garco Cioccuci даже Ma sarà so famoso Ora noi andiamo ad aprire Viene un po' a coprire Aspettate questo mio caprice Scusate perchè non siamo sulla tavola Perchè dobbiamo fare il mercatino solo che Chioia Quindi lo facciamo domani Scusate questa cosa nera sul naso Che mi sono mangiato Una nonna mia Le noccioline Quella cosa nera sul naso Girati E sarebbe questo Kinder Cioccolato Come si apre Aspetta devo farvi vedere prima Qui c'è sempre questo bambino Qui c'è la barretta di Kinder Cioccolato Qui il latte Il latte E C'è Qua la scritta Kinder Cioccolato Oh non ce le faccio vedere Ma le euro Le euro quanto costo Sono quattro barrette Non voglio aprire Pure io voglio aprirla E apri Ma come si apri qua Non lo so Aspetta Muta l'altro lato Aspetta pure io Aspetta 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 Devo un attimo fare così Vai Ecco qua Aspetta prima di prenderle Si apre qui Noi la stiamo aprendo da quest'altro lato Abbiamo fatto un errore Vero? Un errore grave Ti viene un attimo Quindi ne escono quattro Quindi due atti e due a me Che Eccole Normale E banale Se non è banale La mia parte non sta vicino a me Comunque Oh però qua non riesco a capire perché ci sono le zampe Eh sono corone Corone Non è bello Girale Ah si sono corone Io credo che erano le zampe Allora Dopo le buono Mettere le foglie Buono Ce ne sono altre due Vabbè questo Babbo Vi è allergico Alla nutella Ho latte Sono un bambino che c'è un'allergica all'altro Il mio amico Come ti chiama? Giuseppe Rossi Scusate la mia giacca Questa la mettiamo così Non è più bella Allora Da che voti Io ci mi do Al 10 Tu No Speraci da 9 e mezzo Tu Sì da 9 9 Io 9 e mezzo Comunque Speriamo che il video vi sia piaciuto Vi mandiamo un bacione Grandissimissimissimissimissimissimissimo Ciao